Bellissima come sempre e molto emozionata, Anna Tatangelo appassa così nelle tante foto social che ha pubblicato per documentare il matrimonio della sorella Silvia. In un bellissimo abito color cibria che esaltava la sua figura, Anna ha festeggiato con l'amato Gigi e la famiglia riunita in matrimonio della sorella maggiore che aspetta anche una bimba. Anna e Gigi hanno cantato in onore degli sposi e come si legge su Gossip Vlog, Tatangelo ha messo a disposizione della sorella e il suo collaboratore Claudio Ferri per far sì che avesse il meglio in quanto a trucco e parrucco. E a commento della giornata tra le tante foto scattate con Gigi e i parenti, sull'account Instagram di Anna ne è spuntata anche una con il fratello Giuseppe e con questa di Dascalia. Su quattro figli i due più grandi si sono sposati, ora a chi tocca e ora anche per te. Ogni riferimento alle nozze sempre annunciate ma ancora non celebrate con Gigi D'Alessio è puramente casuale. Ovviamente i fan di Anna si sono scatenati in commenti chiedendosi una volta di più perché la coppia, che è innamoratissima da Anna e ha già un figlio, non regolarizza la sua unione. Per ora nessuna replica da Anna, anche se il dubbio resta. La sua è stata solo una battuta innocente o un messaggio in codice per l'inconsapevole Gigi?